Accidenti a te, Simona! Scusa, come hai detto? Insomma, basta con questa tua fissazione della salute a tutti i costi. Ma si può sapere cosa ti prende? Il caffè no, perché è troppo stimolante. Il cappuccino no, perché ci sono i grassi animali e gli zuccheri. Il tè no, perché la teina ti tiene sveglia. Ma di cosa stai parlando? E se uno vuole bere qualcosa di caldo, cosa fa? Una camomilla si deve bere. Ciao amici! Secondo voi, quando voglio bere qualcosa di caldo, che sia anche gustoso e salutare, cosa bevo? Acqua calda? Ma no, siccome io sono trendy e sana, mi bevo una tisana. Ma le tisane non si bevono d'inverno? Ma no, cosa dici? Non servono mica solo a riscaldarsi. Sì, io adoro accompagnare tutti i momenti della mia giornata con una buona tisana. Mi gratifica, aiuta a concentrarmi, mi metto di buon umore, mi fa passare la tentazione di mangiare fuori pasto e poi fa anche bene. In questo periodo ne bevo sempre tre al giorno. Una tonificante per il mattino, una detox durante la giornata e una rilassante alla sera. E oggi ho scelto le tisane della Foodspring, che è lo sponsor di questo video. E vi dà uno sconto del 15% su tutti i suoi prodotti, come vi spiego in descrizione, andate a vedere. Intanto, se vi piacciono le tisane e volete sapere quali bevo io, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Al mattino inizio la giornata con la mia mezz'oretta di yoga e la mia tisana Morning Energy. È a base di tè verde, della migliore qualità, ricco di antiossidanti, polifenoli stimolanti, ma contiene pochissima caffeina, altrimenti a me viene l'agitazione. Ma non solo, qui c'è anche citronella, zenzero in pezzi, scorza di limone, fiori di sambuco, verbena, guaranà, macchà, pepe rosa, ma tè verde. Questa miscela sintonizza il corpo e la mente per affrontare tutte le sfide della giornata. Sono pronta! Durante il giorno, mentre scrivo, faccio le mie consulenze di naturopatia, sorseggio il tè all day purificante. Così, mentre sto seduta, faccio anche detox. Contiene tè Olong, il tè blu, gustosissimo, con le maggiori proprietà depurative e dimagranti. Tè verde, citronella, zenzero, buccia d'arancia, foglie di ortica, foglie di moringa, e poi cannella, curcuma, tarassaco depurativo, cardamomo, Tulsi, che è un'erba ayurvedica, pepe rosa, ma tè verde, fior d'aliso. Per conoscere altre routine salutari come questa e seguire tutti i miei consigli, iscrivetevi al canale. È facile! Basta un click così! E attivate la campanella delle notifiche e iscrivetevi alla newsletter del mio sito per essere avvisati di tutti i nuovi video. Alla sera non mi faccio mai mancare la tisana della buonanotte, Evening Relax, perché mi piace tanto. Mi fa anche digerire, così dormo meglio, mi riequilibra completamente e predispone il corpo a un sonno tranquillo e davvero rigenerante. Contiene zenzero, liquirizia, tarassaco, citronella, tulsi, coriandolo, chiodi di garofano, boccia d'arancia, e poi malva, melissa, verbena e fiore di lavanda. Meraviglioso! Beh, Simona, ci stai facendo venire voglia di bere una bella citana, eh? Vero? Giusto! Squaletto chiede dove trovi queste tisane speciali, perché lui non le trova e nemmeno io. Chi mi conosce lo sa, io voglio essere sempre sicura di assumere ingredienti di qualità. Per questo bevo solo le tisane della Foodspring, che ormai conoscete tutti, che è la madrina di questi miei video. Le tisane Foodspring offrono davvero la qualità premium che io cerco negli alimenti. E in più, la lavorazione delicata permette a ogni ingrediente di restare attivo e rilasciare il suo sapore autentico. Ma che differenza ci sarà mai con quelle del supermercato? Ma cosa dici? Ovviamente ci sono tante tisane in commercio. Ma da dove provengono le erbe? Sono biologiche o contaminate? Contengono aromi e insaporitori, come quei tè finti pieni di aromi aggiunti e sapori improbabili? Io dico no, grazie, quelle no. E poi, non hai sentito che si tratta di una sinergia di ingredienti unica? Con le tisane Foodspring non solo il corpo ringrazia, ma anche il palato e la salute. Giusto, noi le abbiamo ordinate. E con lo sconto che ci hai procurato sono anche più convenienti. Certo, quando i brand mi contattano io chiedo sempre dei vantaggi per voi. Avete un codice sconto del 15%, non è poco, su tutti i vostri acquisti dal sito foodspring.it. In descrizione trovate il link e le istruzioni per usare il codice e risparmiare su tutti i prodotti. Ora condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social, così anche altri si godranno queste deliziose tisane. E anche lo sconto. E nei commenti scrivetemi quali sono le ricette delle vostre tisane preferite. Sono curiosa, lo sapete. Prima di salutarci voglio ringraziare tutte le amiche e gli amici che mi seguono regolarmente, che mi scrivono qui, sui social e via mail. Ho scoperto che non sempre YouTube vi informa dei miei video, per questo sto preparando per voi una sorpresa speciale, una nuova iniziativa per darvi ancora di più e sempre meglio. E se anche per voi la salute naturale è davvero importante e volete essere i primi a partecipare, iscrivetevi alla mailing list speciale tramite il link che ho messo qui sotto, subito in descrizione. Qui sotto oggi trovate tutto. Fatelo mi raccomando. Bene, ottimo. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ma lo sapete, sempre più trendy e sani, con le tisane foodspring e con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Yeah, tisane per tutti! Inizia con accidenti a te, Simona. Sono pronta!